benvenuti in questa nuova registrazione andiamo ascoltare un audio fatto da donatella uscirò pian piano perché comunque è primavera e risento molto io la primavera quindi dormo poco non riesco a concentrarmi e quindi comunque andremo cercheremo di cercherò di fare tutti gli audio piano piano magari non sarà ogni domenica o ogni sabato adesso vediamo e poi le sessioni che comunque avevo preso i nominativi andiamo a schermi intero andiamo a vedere l'audio andiamo a sentire l'audio ecco allora donatella cerca il suo caro e non ci sono tante risposte ma le risposte penso che siano molto dirette nel senso vabbè andiamo ascoltare poi io do come sempre una mia spiegazione ma potrebbe essere tutt'altro ecco insomma a qua dice osserva è molto chiaro osserva e gli inno fa gola noi sarebbe questa spiegazione dovrebbe capire la donatella perché io potrei dire non so posso fare un esempio i soldi fanno gola tante cose fanno gola e ci fanno un po perdere diciamo il nostro senso la nostra direzione eccetera 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 e qui dice è bello tornare noi stessi cioè io penso che qui si riferisca a un passato tra donatella e il suo caro insomma poi dopo donatella potrà capire bene o meglio che cosa sta dicendo il suo caro qui la ripetizione sono ripetute sempre tre volte poi dice le redini sono brutte cose questa cosa è molto particolare non posso dare una spiegazione io le redini sappiamo cosa sono brutte cose questa qua dovrebbe essere un messaggio molto diretto a donatella e dovrebbe capire lei che che cosa sta dicendo qui non è molto chiaro però vediamo di farci riuscire qualcosa insomma qua dice roma e dice qualcos'altro però sinceramente non riesco a capire che cosa intenda che cosa dice perché comunque questi audio di questi audio questa queste fasce di audio che sono sono arrivati insomma sono peggiori del forse questo è il più udibile ma poi dice tornare roma dice qualcosa di questo genere poi dopo non so magari donatella saprà che cosa che cosa si riferisce qua dice qua seminato olio potrebbe essere anche odio inteso come odio oppure qualcuno ha seminato un qualcosa qualche qualcosa qualche parole magari non bere non giuste dice questo lui questa qua la ripetizione di quello di prima di roma si parla di roma e poi dopo che qualcuno ha seminato penso qualche parola brutta o qualcosa di questo genere o parla di un seminato di un qualcosa non so poi dopo vedrà donatella insomma qua dice stirpe voi non so magari si riferisce a un figlio adesso l'audio non me lo ricordo l'ho sentito una volta perché dice stirpe voi forse lui forse lui forse lui ha un figlio con tutela quindi penso che era il compagno il marito qualcosa di questo genere la cinese voi dire da la cinese voi dire da la cinese voi dire da qua dice la cinese vuoi dire la qualcosa di questo genere dice la cinese vuoi dire la insomma queste sono quelle che sono cioè queste sono interazioni capibili sono riuscito a tirare fuori da questo audio andiamo al mio faccione e niente stavo dicendo che comunque questi audio sono molto diversi dagli altri ci sono parole chiare parole non chiare poi ognuno si dovrebbe quello che sento io poi ognuno si dovrebbe tirare fuori un messaggio un qualcosa insomma e niente velocemente che oggi è il 12 06 2024 forse esco oggi col video o domani adesso vediamo perché sto perdendo qualche ora lavorativa per problemi che ci sono gli ordini ma non c'è il materiale insomma una cosa strana insomma e niente al prossimo video ciao